Oh, hai visto? Perché è meglio di là. Sì, sì, sì. aiuto, aiuto ancora come ieri è continuo di ieri oggi a presto giù esatto dove va zio seve vai tanto c'è l'albero Pausto dillo ma perché non vada a farla tutta a retromarcia così 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 tira e cargamella perfetto ma è preciso che schiato mi si puntava eh via dall'uscita via dall'uscita ma che qua c'è la radice vai vai avanti vai qua siamo nella roncia dei morti aspetta eh aspetta qua dobbiamo calcolare se passa bravo tagliamo quello lì tagliamo quello tagliamo quello lì e puliamo il pezzo lo vediamo avanti perché avanti era diritto eh grazie a tutti